Sono molto felice di essere venuta a trovarti, questa cosa immatissima E anche di esserci conosciuti per la prima volta di persona, no? Errato, errato, tranello, io e Paolo già ci eravamo conosciuti No, in realtà me l'hai detto ma eravamo a una festa piuttosto alcolica La sua festa, letteralmente la sua festa due anni fa tra i Sanremo E quindi io non so, non mi ricordo Chiamare un taxi come in un film, alzando la mano Taxi! Matto Occupare inutilmente un posto a sedere con la borsa Scemo E salutare ogni singolo cane che incontri in giro Matto Signora Matteo senza la E Matto Sì, esatto Comunque raga io quando dico che è scemo non vuol dire che è scemo chi lo fa, eh? Solo che io non lo farei Cioè, vabbè, buona puntata Amici ma bentornati in una nuovissima puntata di Matto mica scemo Anzi non solo nuova, io direi iconica davvero Cioè stavolta usiamo veramente la parola iconica con una cognizione di causa Perché siamo qua con, non saprei neanche spiegarvi l'emozione che posso avere in questo momento Con colei che è l'icona della mia vita che ho sempre detto da anni a questa parte A chi mi conosce, a chi mi avvicino, perché io veramente ti adoro Siamo con Paola Iezzi Ma perché devo presentarla? Cioè, ma che devo dire di più su di te? Cosa posso dire? Ciao, ciao Matto Come va? Bene Sono molto felice di essere qua oggi Vero? Sì, molto, molto iconico Molto iconico Ora iniziamo già che l'abbiamo detto tre volte Vediamo a fine puntata quante volte abbiamo detto iconica Non le conteremo più Io diciamo che quando ho un ospite non presento l'ospite perché con te è proprio inutile Cioè di solito sono i miei amici Ma anche perché lo trovo un po' che non sai mai chi dire, non sai mai che fare Quindi di solito faccio una domanda un po' random così da rompere il ghiaccio e ci capiamo Vai La mia domanda per te è La doccia si fa al mattino o si fa la sera quando torni a casa? Per me il mattino Perché? Perché mi dà energia La doccia in generale rispetto al bagno ti dà più energia E quindi la sera in realtà poi non mi fa venire voglia di andare a dormire La sera è meglio il bagno che ti abbatte proprio E ti rilassa Se ti rilassa La doccia invece è per iniziare la giornata Io sono totalmente d'accordo Ah, sei d'accordo Totalmente d'accordo Cioè per me la doccia della mattina che io mi sveglio e sono pronto alla giornata Bravo, così Se no poi la sera cioè perché sono pronto e pulito e profumato con i capelli perfetti quando andare a dormire Cioè non ha senso questa roba che la gente fa Non capisco No, puoi fare il bagno se proprio esigenze Cioè non è che non ti devi lavare la sera però diciamo non prepararti la sera Dipende anche da chi c'è nel letto, questo sicuramente è una discriminante C'è qualcuno nel letto e allora la ti prepari Non è il caso mio come potete sapere Il letto piange Esatto Allora questa puntata la iniziamo subito Questa puntata si chiama Il pop è una cosa seria Come mai Voi che ascoltate questo podcast Quei 4, 5 e mia nonna e mia madre Sapete che sono un figlio Nonché un fedele della religione del pop Cioè io trovo che Tutto ciò che è pop culture Quindi momenti televisivi Momenti significativi della musica Outfit iconici Siano la ramificazione di questa grande religione che è la pop culture Che da un lato io amo, vivo e come posso dire, professo, professo? Si può dire professo? Che sì E dall'altro difendo perché mi devo trovare sempre e in ogni circostanza doverla difendere Perché? Perché spesso e volentieri c'è qualcuno che dall'alto del suo papillon blu mi dice che è superficiale Ai 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 Che irritazione Che irritazione Esatto Come una pazza io quando mi dicono che è superficiale Però ci sta, guarda Secondo me qualcosa che devi anche difendere alla fine lo ami di più Non so, in qualche modo è Se tutti dicessero sì hai ragione, sì è top, è vero, hai ragione Il fatto di dover mettersi a difendere estrenuamente qualcosa in cui si crede Ti ci fa credere di più, cioè diventi ancora più un fan, cioè ancora più uno fervente Uno che ha voglia di combattere per qualcosa Quindi secondo me ha anche dei lati positivi A volte fa incazzare di brutto perché ti sembra di capire delle cose e di capirle solo tu E non essere compreso dal resto del mondo E dici ma come fai a non capire che questa cosa è top? Che è iconica Che è iconica Però c'è incredibilmente, cioè nonostante il tempo passi e poi il tempo decreti che certe cose sono top veramente E sono iconiche veramente, ancora oggi ci sono delle reticenze sul pop Cioè c'è ancora gente che snobba la cultura pop E vabbè questo ci renderà ancora più forti Sì questo ci renderà più forti che diciamo la nostra battaglia prosegue e va sempre avanti È verissimo che ho notato, cioè noto dei cambiamenti a volte da persone che magari cinque anni fa La roba che era appena successa, no vabbè, trash, superficiale, non mi fa ridere E adesso la usano come reference, come citazione Perché per me la pop culture è anche quello Cioè non è solo l'iconicità nella musica, nello spettacolo, nel teatro Ma può essere una citazione, può essere veramente la maglietta di Barry Silton Stobbing Pur, che in realtà era poi Stobbing Desperate Però è una roba talmente iconica di quegli anni Che quante volte io mi trovo a citarla con la maglietta così dal nulla Sì, dipende anche poi da quello che succede nel tempo Se certe cose rimangono, certe cose invece se ne vanno Per poi magari ritornare o non tornare mai più Ci sono state delle cose iconiche negli anni Ottanta O delle cose che non poi, anche band o canzoni Che poi non sono mai più tornate Invece cose che ci sono dei ritorni Oppure delle cose che non se ne vanno mai Che rimangono delle reference costanti E non se ne vanno mai via Quindi dipende molto da quello che succede Durante il passare degli anni E come si evolve una determinata corrente Perché poi il pop non è tutto uguale Il pop è totalmente diverso Il pop è ramificato in 200.000 declinazioni diverse E secondo me è quella la forza del pop Per cui rimane sempre una costante delle nostre vite Perché quello che io poi quando litigo Litigo, poi vabbè discuto anche perché litigare è cheap Quando discuto con queste persone Gli voglio far capire che solamente perché una cosa è All'apparenza superficiale Quindi all'apparenza una citazione della Kardashian O una canzone da discoteca Ha dietro e si porta dietro Tutto un significato che di superficiale non ha nulla Perché diciamo il pop è un motore che unisce le persone Cioè racconta le storie di tutti Cerca di essere un collante per chiunque Cioè il pop non è discriminatorio in questo È discriminato ma non discriminatorio Perché è accessibile, è easy, è divertente Sì non è solo quello Credo che sia proprio anche l'espressione Come dice la parola Di un sentimento popolare O di quello che accade socialmente ad una società Per cui tante cose che per esempio Accadono nella società americana A livello di pop, cultura Poi passa da noi E si imprime in qualche modo E ci fa capire la cultura americana Che magari ha poco a che vedere con noi Ma noi siamo un po' figli loro In qualche modo Sì però c'è una differenza tra la loro Cioè per esempio molte situazioni Molte differenze Nessuno le capisce perché nessuno guarda La pop culture americana Sì C'è una grande differenza Di come è vista la pop culture lì E di come è vista qui Certo Perché è differente diciamo l'utenza Noi siamo un popolo molto diverso Perché siamo prima di tutto europei Quindi abbiamo un altro modo di leggere La realtà e la società Abbiamo altri parametri Perché deriviamo da una cultura molto antica Gli americani sono molto giovani Culturalmente parlando Quindi hanno avuto tutto un altro sviluppo L'absus temporale No C'è da dire che si sono molto impressi Nella cultura globale e mondiale Perché sono estremamente potenti Estremamente ricchi E quindi hanno potuto E poi hanno il vantaggio grande della lingua Cioè l'inglese è diventata la lingua mondiale Che tutti parlano Quando ci si vuole capire In generale si parla l'inglese Nel mondo Quindi parlo per esempio Da musicista Da chi ha fatto musica tutta la vita Il gap Cioè il più grande limite Del pop italiano è la lingua Eh sì Come anche di pop europeo Cioè se vuoi importi nel mondo Dovresti cantare in inglese Il problema è che poi vai a scontrarti Eh no Su questa la domanda fuori scaletta Te la devo fare È come fare le bacchette in Cina Cioè è come andare a fare le bacchette in Cina Ti diventeresti un competitor dei cinesi Sulle bacchette No È una roba da folli Ce l'hanno fatta Cioè per questo tu non l'hai mai fatto Per esempio Cioè ora che mi hai detto questa roba No ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Però In realtà ce l'abbiamo Quando siamo riuscite A imporci con una hit In Europa È stato Con Vamos a bailar Che era un pezzo di matrice latina L'abbiamo anche cantata in inglese E ha anche raggiunto dei risultati Ma è stato un episodio E credo che se avessimo cantato in italiano Forse avrebbe avuto più successo Ma anche per una questione di colore Perché l'italiano nel mondo Fa colore quando è italiano Quando spinge molto sull'italiano Noi avevamo l'opportunità di farla meno questa cosa Perché non eravamo così tipicamente italiane Sembravamo un po' Eravamo un progetto un po' particolare Vabbè ma perché voi negli anni 2000 Cioè io ho sempre visto Parle Chiara come La nascita del pop in Italia Vero come quello americano E quello di fuori E quello stampo lì sì Non c'erano altri acting pop all'epoca Che somigliassero a qualcosa di internazionale Cioè chiunque facesse pop in Italia In quel periodo Faceva il pop italiano Con quegli accordi lì Con quella progressione armonica lì Con quella progressione melodica lì Noi guardavamo Perché siamo cresciute appunto Con la cultura pop inglese e americana Da quando eravamo piccoline Non ascoltavano Non avevamo reference Italiane Cioè vicino casa No Fino agli otto anni Abbiamo ascoltato i dischi di papà Dove c'era anche la musica italiana Però quando abbiamo iniziato Diciamo l'età della ragione Abbiamo iniziato a volere le nostre cose Comprare i nostri dischi Fare le nostre scelte musicali Erano anni fotonici Quelli Anni veramente iconici Abbiamo avuto la fortuna Di crescere negli anni 80 Che sono stati gli anni veri del pop Dove è nato il pop Dove è nata la cultura pop E quindi Insomma Tutte le band Che arrivavano attraverso Poi non c'erano ovviamente Lontanissimi Tutto quello che riguarda il web Quindi si sgrattava Dove si poteva Dalle trasmissioni televisive E mi ricordo È lì per esempio Dove prendevi la cultura pop Italia 1 Italia 1 era Per i giovani di allora L'unico canale Perché non c'era ancora Video music Non c'era ancora MTV Che sarebbe arrivato poi A fine 80 Primi anni 90 Per cui Noi non avevamo Nessun mezzo Italia 1 era Italia 1 era La rete Di riferimento Per i giovani Italiani Quindi Se avevi fortuna Riuscivi a beccare Un'anteprima Di un videoclip Di Michael Jetson C'era Bibo Palula Per esempio Bibo Palula Era una Trasmissione iconica Condotta da Red Ronny E Red Ronny Era un po' Un influencer Antelitteram Cioè girava Con questa Chiamo telecamerina Ma è un complimento Perché era una sberla Di due metri Ti giuro Non pensate male Era una telecamerona Però lui Riusciva Con un cameraman Spesso anche da solo Arrangiando Sia un microfono Collegato Così Faccio dei gesti Però Sì diciamo ragazzi La malizia è in chi vede Non in chi parla Esatto E quindi Lui riusciva Non si sa come Perché In questo era straordinario A intrufolarsi In qualunque tipo Di backstage Ed era l'unico Che portava a casa Dei reportage Incredibili Di artisti Internazionali E tutte le volte Dici ma come Ha fatto Entrare Lì No dove Peraltro Era l'epoca In cui il pop Vendeva tantissimo C'erano veramente Delle star Inavvicinabili Roba che venivi preso Da questi bodyguard Prima era anche Molto diversa Perché non avevi L'accessibilità Alla celebrity Che hai adesso Assolutamente Ma poi arrivavano Questi inglesacci Ubriachissimi Cattivissimi Con queste bodyguard Cattivissimi Ti facevano volare L'artista stesso Non era come adesso Che era tutto educato Si era star Era star Ti sputava anche addosso Diceva Cazzo Ti prendeva male parole Cacciate questo coglione Fuori dal camera Sai quanti insulti Si è preso Red Ronnie Per riuscire a portare a casa Una clip Mezza intervista Da questi Che lo cacciavano ovunque Alcuni no Perché lo conoscevano Quindi lo accoglievano E ci stavano un sacco A parlare Poi era uno dei pochi Che parlava fluentemente Insomma Abbastanza bene l'inglese Per cui capiva anche Certi termini Di questi inglesi Un po' cockney Che arrivavano Con questi accenti pesanti E spesso non si capiva Cosa dicevano Perché non c'erano Le traduzioni Quindi lui ti traduceva Quello che la star diceva E tu E tu adoravi Non vedevi l'ora Che andassi in onda Bibo Palula Perché se amavi Quel tipo di Era l'unico momento Per averlo Era l'unico modo Per vedere Queste interviste Per vedere i videoclip In anteprima Per insomma Queste cose qua E purtroppo Te le dovevi In qualche modo Guadagnare Oppure si sostava Sotto radio DJ Le ore Perché era l'unica radio Dove tutte le star Americane e inglesi Andavano a fare le interviste Quindi si andava In via Massena E si stazionava Lì delle ore Ad aspettare Che questi scendessero Ragazzi io vorrei Vorrei fare Ma io sono qui Ad ascoltare Ammaliato Da questa storia Ma c'erano Delle folle Che riempivano Tutta la via Quando arrivavano I Duran Duran Per esempio Che molti non sapranno Chi sono O arrivavano Di Spandau Ballet Arrivava Kim Wildo Arrivava Giovanotti Quando hai iniziato I primi tempi Verso fine 80 Le folle Sterminate Sotto via Massena Che aspettavano Con le macchine Fotografiche Anche solo Per un autografo Una foto Sì infatti Eppure diciamo Tutto il mondo Paparazzi Autografi E tutto molto più lì Rispetto ad oggi Cioè oggi Non c'è più Questo vero inseguimento Alla celebrity Alla star Perché ci sono i social E quindi tu Sì però è brutto C'era molto più C'è anche la star Che tu mi racconti Un po' Diciamo Rozza Cattiva Un po' maleducata Un po' maleducata Aveva nel suo Un po' di iconicità pop Beh certo Per noi Per noi vedere L'inglesaccio Star Che arrivava E ti mandava a fare in culo Non è che dicevi Oddio Che stronzo Ma oddio che iconico E tutto il popolo Andava contro la star E il giorno dopo Non vendeva più un disco Anzi era il contrario Perché andava Di modo Il political is correct Non il political Il meraviglioso Political is correct Se facevi così In qualche modo Gli ultimi Che hanno fatto Che hanno avuto Un po' questo atteggiamento Così sono stati gli oasis Devo dire Che avevano questo atteggiamento L'I am no Soprattutto Arrivava A mezzo ubriaco E ti insultava Ti diceva delle robe Anche ai fan È stato forse L'ultimo periodo Dove ho visto Quel tipo di atteggiamento Poi oggi È completamente cambiato Nel senso che Vedi come anche La cultura pop Si trasforma E cambia Con il cambiare Con il mutare Dei tempi Oggi C'è Diciamo Un occhio grande Che ti guarda Che è quello Del social network Dove qualsiasi cosa Fai Diventa scomoda Ah no Allora tu Alla gogna Non puoi dire Quella cosa Non puoi fare Ma è anche più difficile Far qualcosa Che diventi poi Pop reference Pop culture Perché Oggi sembrano tutti Degli angioletti Capito Si muovono tutti su Su un terreno un po' minato Perché hanno tutti Sì ma la pop culture Non è questo Non è la parola giusta Al momento giusto Era proprio la differenza La roba più strana Perché ho sempre pensato Che poi la pop culture Perché l'amiamo tanto E diventa pop Perché è un po' Un po' dividente Non è né giusto Né sbagliato È una roba Che tu a un certo punto Dici perché sì Perché è iconico Lo faccio perché sì Cioè sono quelle robe Senza giustificazione Cioè voglio uscire Per esempio penso A Naomi Campbell Quando esce dal carcere Era stata arrestata Perché aveva avuto Una lite con la sua assistente Anni 90 Ma non Che strano Non era proprio una lite Le aveva tirato Un telefono in testa Non matto Super scemo Come roba che ha fatto Ma super matto Uscire dalla prigione A Londra In total dolce Gabbana silver Look di Sanremo vostro Quello con la cinta Metà Che io la guardavo E dice Ma ragazzi Non è giusto Non è sbagliato È iconico Perché sì Perché se esco dal carcere Ci esco in total Dolce gabbana silver Cioè capisci che non puoi Non dire Sei un genio Sei un genio Cioè Hai mai avuto momenti Tu Cioè tu Paola e Chiara insieme Che hai detto Sai io lo faccio perché sì Cioè Non è giusto Non è sbagliato Io lo faccio perché È iconico Sì tante volte Quello più eclatante È stato quando abbiamo deciso Di fare il video di Kamasutra Oddio Anzi ti dirò di più Siccome qua c'è la truccatrice Che ci ha truccato Quel giorno E lei mi ricorda Sempre una cosa Noi avevamo deciso Di fare il video In una certa direzione Cioè il pezzo Si chiama Kamasutra Andiamo su Kamasutra Bene Cioè andiamo dritti Come un treno Peraltro il video Che pagavamo noi Sponsorizzato da noi Tutto fatto da noi Anche perché Cioè non ha senso Che giocavi al Lego Cioè parli proprio di Kamasutra Esatto Per cui non aveva senso Fare una cosa a metà Per di più Era una cosa Che avevamo fortemente voluto Con la casa discografica Avevamo detto No vogliamo fare questa cosa Lasciatecela fare Era stato anche Un oggetto di discussione Questa cosa E Video pagato da noi Con tutta la scena Costruita da noi Abbiamo portato il letto Da casa dei miei genitori Cioè costruito proprio Pezzi di Antiquariato Presi da casa di mia madre Portati lì In studio Set fatto proprio ad hoc Tutto scritto da noi Scene Tutto quanto Poco prima di girare Noi ovviamente Avevamo tutte le nostre Le reference erano chiarissime Cos'è che non è uscito Ma che doveva uscire Le foto di Elmwood Newton E Gordain Insomma tutte le cose più erotiche Che tu ti puoi immaginare Piuttosto Spinte Spinte Sì Non una roba Per noi che eravamo abituati A macinare Quel tipo di immagini Non erano una cosa sconvolgente Perché se tu frequentavi Un po' Le fotografie di moda E di Newton Di Bourdain E tutto quel periodo Sì che non è neanche nudo Cioè nel senso 80 Beh nudo però È nudo fisico Ma non è un nudo porno Questo Era abbastanza Se eri avvezzo A quel tipo di Di immagini Non era una roba sconvolgente Ma per una Una cultura Che magari non era prontissima Eccetera Poteva Però noi avevamo detto Alla nostra truccatrice Che è anche un'amica È una persona Quindi teniamo un moto E avevamo detto Allora 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 Noi facciamo questa cosa Qualsiasi cosa Noi ti veniamo a dire Che non lo vogliamo più fare Tu non ci cagare Cioè tu vai dritta Faccio lo fare C'è stato un momento Non da parte mia Ma prima di girare Ho detto Forse è troppo Sta roba qua E allora lei ha detto No No La dovete fare Mi avete dato un compito Che è quello di andare Fino in fondo E noi oggi andiamo Fino in fondo E così è stato È stato un po' È un azzardo Devo dire E io non mi sono mai pentita Di aver fatto quel video Perché è un video iconico Cioè tutto oggi È uno di quei passaggi nostri Che è vero Ci ha fatto malissimo Dal punto di vista Sì vabbè Però Da un certo punto di vista Dal punto di vista commerciale È stato un po' Una zappata sui piedi Perché non c'erano i social E quindi Avevi solo un momento Sì ma non penso che tu oggi Te ne penta No io no assolutamente Cioè Sono quelle robe che sì Ok a livello commerciale Ha avuto un suo risvolto Magari negativo Lo possiamo dire Ma Quanto è stato iconico Quel video Per voi Ma io non tornerai indietro E lo cambiare Esatto Ma anche perché Come dicevamo prima Gli artisti Hanno anche a un certo punto Non solo bisogno di vendere Perché l'artista pop Non può prescindere Dal mercato Cioè c'è questa C'è questo Ecco forse è un po' Tra virgolette Si può dire Un limite Della pop music Parlo di musica Credo anche che la pop art Soffra un po' Dello stesso Che non puoi Prescindere dal mercato Cioè il pop deve vendere Tu sei legato Alla commercialità Del prodotto Di quello che fai Tant'è vero che spesso Il pop è Tacciato D'essere un prodotto Cioè a volte dici Questo prodotto funziona Questo prodotto Non funziona Cioè l'opera d'arte Diventa prodotto Senza Vendere Se tu non vendi E quindi non sei Mainstream Come si dice oggi E scompari E per il pop Scomparire Non è Non è proprio contemplabile Perché è l'opposto Delle regole Su cui si basa il pop Perché sopravvivi Grazie al mercato E quindi L'artista pop Deve costantemente Anche se è un dialogo Estenuante A volte Devi costantemente Dialogare La tua parte Diciamo Più estrema E più Spregiudicata Diciamo così Deve costantemente Dialogare Con Con la commercialità La commerciabilità Di quello che andrei a fare E a volte Per certi artisti Che sono puri Che sono puramente artisti O nasci un genio Ma i geni sono pochi O sei David Bowie E allora Che comunque anche lui Ha fatto i suoi compromessi Pur essendo Un genio Anche il genio Fa i suoi compromessi Però O hai quella grinta lì Cioè hai quella Non quella grinta La grinta la puoi anche avere Il talento Cioè il talento di un genio Non ce l'hanno tutti Allora Chi fa il cazzo che vuole Scusami il termine Sono pochissimi Cioè sono pochi Sono dei geni Sono Naomi Campbell Che esce fuori Fa il cazzo che vuole Fa il cazzo che vuole Ma perché è Naomi Campbell E In qualche modo Non è che se l'hai guadagnata Quella roba lì È come se ci fosse nata Quell'attitude lì Di fare quello che ti pare Ma è l'altro dell'icona Che hai a prescindere Anche secondo me Dallo stato di fama Che tu puoi avere Cioè io incontro persone On a daily basis Che hanno quella Cioè che hanno Quella scintilla lì Dell'icona A prescindere poi Che siano persone famose Persone riuscite Nello spettacolo meno Cioè Io potrei nominare Nei cinque di amici Che ho nella cerchia Che penso siete Sì poi bisogna vedere Quanto resistono A essere così Se poi a un certo punto Cambiano Poi nella vita Non si può mai dire Che cosa può succedere Magari Hai quella grinta lì Quando c'è Io ho visto un sacco Di artisti Che non so A venti Venticinque Trenta Avevano quella cosa lì E poi di colpo Pum È come se il fluido Si esaurisse E quella cosa Non ci fosse più Bisogna capire Da dove viene Quella cosa Quindi questo costante dialogo A volte per alcune persone Può essere estenuante Può spaventare Perché ci sono Artisti pop Che sono abituati A vendere tantissimo E poi di colpo Succede qualcosa Perché succede Nella cultura Per cui tu Non vai più di moda Perché a un certo punto Arriva qualcun altro Che in quel momento Prende più attenzione E tu vai un po' In shadow bar Però è un po' La fiumana del progresso Del pop È chiaro Però alcuni artisti Siccome gli artisti Spesso sono esseri Iper egocentrici Abituati Abituati Magari viziati Dal fatto di avere Sempre attenzione Su di sé A un certo punto Soffrono O vivono molto male L'insuccesso Il segreto Secondo me Di quando succede E succede Quasi a tutti Ripeto Forse è Bowie Continuo a dire lui Perché è forse Uno dei pochi artisti Che ha saputo mixare L'arte Pura Cioè il suo essere artista Puro Con L'essere pop È stato intelligentissimo Nel modo in cui Si è mosso Secondo me è uno dei pochi Che è riuscito a fare quello E quindi a non finire mai In shadow ban Perché Perché quando magari Vendeva di meno Comunque restava l'artista Sì cioè bilanciava Tra il commerciale E l'icona pop Cioè c'era sempre Questo connubio Però non tutti riescono A fare quella cosa lì No? Cioè non tutti riescono Ma perché dipende Secondo me sempre Dall'obiettivo che ti dai Cioè l'obiettivo qual è? È essere pop E l'icona pop O essere un artista pop iconico E quindi rimanere anche Nel commerciale E darti i tuoi compromessi Sì Però questa cosa Saperla a vent'anni E poi sei un genio Perché questa roba Tu quando inizi questo mestiere Non sei un cazzo Quando Le persone che a vent'anni Come lui Forse anche più piccolo Già sapeva Già sapeva Cosa era il mercato E cosa lui voleva essere Sapeva di voler avere successo Ma di volerlo avere In un certo modo A certe regole E quando il successo commerciale calava Io non credo che lui stesse bene Cioè io non credo che lui Non volesse vendere Tutti gli artisti pop Vogliono vendere Essere amati E vogliono sentire Il pubblico A cantare le proprie canzoni Beh quello certo È la masturbazione Passate il termine dell'artista Perché se no Non fai le canzoni pop Se no ti metti a fare un'altra roba Chitarra e falò in spiaggia E racconti la storia drammatica Però se vuoi diventare Un'icona pop Un artista pop Tu desideri fortemente Che le tue canzoni Arrivino a più pubblico possibile Poi è chiaro Che a un certo punto Devi operare delle scelte E operare delle scelte Quando hai vent'anni È difficilissimo Perché avere una consapevolezza Di quello che è la società Il mercato La discografia La promozione Tutta una serie di cose Che tu non sai O hai la fortuna Di avere qualcuno accanto Ed è rarissimo Che a vent'anni Ti indirizza già C'è un grande manager Una persona illuminata Però tu ti devi poi fidare Perché se a un certo punto Non so Si incrina la figura Con un manager Che può essere il tuo mentore Però a un certo punto Tu non so Inizia a vendere Iniziano tutti a usannarti Tutti a dirti Che sei un genio È un attimo Che ci credi Capito I geni Lo ripeto Sono pochi Pochi Nessuno è un genio E poi queste robe qua Alla fine Poi le paghi Poi se Ti si incasina il cervello Perché il pop È capace anche di questo No Di crearti una tale confusione Vabbè ma sì Perché c'hai tutto questo Che ti arriva Il clamore Luce chi Ho i soldi La gente che ti dice Continuamente che sei iconico Che sei top Che tu E poi Ti dimentichi chi sei È veramente facile È troppo facile Perdersi È molto facile È facile perdere la testa È facile farsi abbagliare Dalle luci È facile cadere nei tranelli Di chi magari vuole guadagnare su di te Invece di te non gliene frega un cazzo E quindi è un terreno piuttosto insidioso Per questo secondo me Per tornare al discorso originale Merita rispetto Capisci perché dopo tutto quello che abbiamo detto Mi rode il culo Quando qualcuno dice Ma io sono d'accordo Ah sì vabbè Superficiale Hanno fatto una canzone che dice Vamos a bailar Ma vamos a bailar in culo a te No ragazzi Cioè c'è dietro tutto Tutto un mondo Un mondo Un rischio Se io penso a Michael Jackson Per esempio Adesso ultimamente Non so vabbè comunque Beh Michael Jackson Cioè ripetiamo Cioè nel mentre Eccetera Paolo e Chiara hanno letteralmente aperto Cioè me lo nomina come No io penso a Michael Jackson Letteralmente aperto il suo concerto A San Siro Però vabbè È stata forse Una roba iconica Forse dopo Elvis Presley La più grande E a Madonna per me almeno La più grande icona pop Dei nostri tempi No Ma penso dei tempi di tutti Cioè penso che è l'unico Che trascinde gli anni Però se pensa al prezzo Che ha pagato lui Per essere pop No E quanto Quanto di sé E quanto a arte E quante canzoni Ha donato così In libertà Tra l'altro Lo sto dicendo a tutti Sembrano una sponsor Però guardatevi il documentario Che è uscito su Netflix Di come è nata We are the world L'ho visto Stupendo Ecco Quella è una pagina A me ha emozione Io pianto dall'inizio alla fine Me lo sono riguardato più volte Perché io Quando è uscita quella canzone Io c'ero Mi ricordo che ero su Pullman Che andavo in gita All'elementari Ed è partito sto pezzo E io dicevo Che cosa E dopo La cosa bella del pop È che dopo un secondo lo canti No Penso a voi ragazzi Io penso a furore No 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 Non scherziamo Perché quando vuoi L'anno scorso Siete uscite su quel palco E avete intonato La prima strofa di furore C'era l'Italia Che si era Eravamo tutti seduti Con un ginzola maglietta Ci siamo trovati Tutti con delle paillette addosso All'improvviso A cantare furore E tu non sai C'è il locale A Milano Si chiama la Boom Dove si va il venerdì Non sai cosa stanno facendo Perché immagino Che tu non ci vada Per paura Che tutti ti assalgono Ogni volta Che parte furore È una roba Trascendentale Io mi ricordo Che ho fatto un litigio Alla Boom Enorme Parte furore Un attimo Scusami un secondo Quando torniamo a litigare Fra cinque minuti Devo un attimo Salire su quel divanetto In questa notte Perché sono quelle robe Talmente istantanee Che veramente colgono tutti Ma questo secondo me È il bello delle canzoni Io lo dico sempre Quando a volte senti Gli artisti che divagano E che iniziano a fare dell'altro Le canzoni sono vita Sono la nostra vita Cioè sono la nostra memoria storica A distanza di tempo Cosa rimane di un artista Se non Certo anche i look Pazzeschi Anche delle cose Però I look sicuramente Uniti a questa potenza No Poetica Del restare impresso Nella memoria Storica Delle persone E che poi viene tramandata Perché non finisce lì Cioè la tua vita finisce Ma la musica non finisce mai La musica pop Non finisce mai Quindi pensa tu Quanto è bistrattato Il pop E quanto invece Regala alla gente Momenti di Appunto tu In quel momento lì Hai smesso di litigare Ma poi tu hai smesso di litigare Pensa tu Tu dici scusami Non c'ho più voglia di litigare Fammi andare a ballare Fammi cantare furore Fammi andare a ballare sta roba Pensa che è figata No Cioè la tua litigata è passata Ma perciò prima ti faccio il discorso Che secondo me il pop unisce A prescindere da tutto Perché veramente Quella roba che Qualsiasi cosa stai facendo E qualsiasi discussione Poi un certo tu dici Sì però vabbè Quanto è iconica sta roba Cioè Perché poi Perciò io poi penso Che queste persone Che sono un po' contrarie al pop Perché io non ci credo neanche Ma va ma poi Di nascosto Nelle loro camerette Nel 2011 Vi voglio vedere A dire Pippa Middleton 18 volte andate allo specchio A seguire il matrimonio E vi voglio vedere Nel 2020 A parlare di Bugo e Morgan Cioè nel senso Poi alla fine dite No non guardo Non guardo Ma guardiamo Perché il pop Ha una roba ammaliante Che non si spiega perché Hai sempre bisogno di più Cioè ne vuoi sempre di più Perché è talmente Un momento di svago Mentale Che è proprio una cura Cioè io lo trovo Terapeutico il pop La pop culture Tutto quanto Come i programmi Per esempio I reality Cioè C'è una grande Etichetta orrenda Su reality Lascia quello che è diventato Trash adesso E cosa Va bene Sì ok Ma il reality È una roba geniale Cioè noi Stiamo guardando delle persone Che fanno le persone Cioè siamo lì ammaliati Davanti alla televisione Perché È bello È talmente estraniante Ma allo stesso livello Semplice Per me è più una Quando io guardo Per esempio I reality E quel tipo di cultura Televisiva Per me è più Lo specchio Della società Cioè L'astrazione Di quella roba lì Potrebbe essere Un'opera d'arte Nel senso Un'installazione Artistica Il fatto di vedere Le persone che fanno Le persone Come dici tu È chiaro che Quella lettura lì Ha un livello Intellettuale Superiore Cioè se la subisci Può essere Traviante Trasformante Della Della tua persona Ma se Hai gli strumenti Per decodificare Quello che sta Avvenendo Allora Diciamo che è meglio È meglio È molto più facile Avere gli strumenti Per decodificare Quello che avviene In quel momento lì Quello che è importante È avere sempre Una lettura attiva Di quello che stai guardando Di non subirla Passivamente Può essere certo Anche solo lo svago Questo Sì no Però lo svago È accompagnato anche Da una riflessione Cioè ogni volta Che guardo Quei programmi Ho questo tipo di pensiero Perché dico A parte tutto Che mi fa ridere Che Poi c'è sicuramente Una parte di quelle cose Che tu guardi Che sono storie Di tutti Sì no Ti riconosci Ci sono delle parti Qualcuno che racconta Le sue problematiche I dolori Le difficoltà di parlare Con il padre Con la madre Con la sorella Con il fratello Chi non le vive Sono cose anche Di tutti i giorni Lascia perdere le cose Diciamo sceneggiate Per colpire determinate E lo sappiamo E lo strumento televisivo Lo accettiamo così com'è Sì poi diciamo Che alcune persone Forse non lo sanno E quindi sono quelle Che magari Su quel tipo di persone Bisogna fare Magari un ragionamento In più Ma allora capiamo Che questo tipo di persone È il Senso offesa Quello superficiale Eh sì Perché poi alla fine Quelli che dicono Noi che siamo i superficiali È perché ci guardano Con superficialità Sì oppure non magari superficiali Ma le persone che semplicemente Non hanno Non hanno lo strumento Non hanno gli strumenti Per capire Cioè Ti faccio un esempio banale Se tu Non so Non sei abituato A ascoltare il jazz Per esempio No Io per esempio Da piccolina Ascoltavo solo pop Poi a un certo punto Una persona Mi ha fatto sentire Il bebop E io non conoscevo Questo tipo di musica E non avevo gli strumenti Per capirlo Però a forza di sentirlo Perché c'era qualcosa Che un po' Mi intrigava A forza di ascoltarlo L'ho capito E allora Certe cose Hanno bisogno di più tempo Per essere interiorizzate Quindi ci vuole Comunque Una Una cultura Di qualsiasi cosa Tu Voglia far parte La devi conoscere Per poter Criticare Sì ma la conosci Con la voglia Cioè Tu lo fai Perché Ora Cioè Off camera Io l'ho Paola Iezzi Oltre il personaggio L'ho proprio capita Settimana scorsa Quando Non so con quale Miracolo divino Ha detto Ma sai che c'è di nuovo Andiamo al podcast Di Matto Ok Vado su Instagram A un certo punto Un sabato sera Me lo ricordo ancora Sabato scorso Trovo Tutti i commenti Tuoi Sotto i miei video Perché te le era Andate qua Perché io Se vado da Matto Mi studio Ma è questo però È la differenza Perché c'è la voglia Di vedere Quello che non so Per farlo La curiosità E questo C'hai capito Perché dico sì Ok per noi è facile Per te è facile Perché sei questo tipo Di persona Loro non hanno Questa voglia qui Cioè Chi magari critica O non critica Non c'ha la voglia Per di andarsi veramente A vedere cosa sta criticando Ma sai appunto Come dici tu Tu sei uno Che parla con gli altri Hai un podcast Parli con la gente Parli con tante Parlo molte volte da solo Molti film mentali Ma quello è positivo Sì sì Io poi dico che parlo Con qualcuno Ma spesso e volentieri Sto parlando da solo Proprio io e basta Adoro Poi tra l'altro Tu vieni da un luogo Geografico Che io amo tantissimo Napoli Esatto Dove c'è Più pop di Napoli Cosa c'è? Nulla Nulla Cioè tu vai a Napoli E non per parlare Per luoghi comuni Però davvero Napoli è pop Napoli è pop Nel senso più nobile Del termine E la cosa bella Di Napoli È che C'è una cultura Proprio insida Nella città Che Ti affascina Io quando vado a Napoli Starei ore A parlare con chiunque Perché qualunque persona Ti dice una cosa E te la dice In un certo modo Con un certo tono di voce Con un preciso sguardo Che tu sei affascinato Da quella cosa lì La cultura di strada La cultura profonda Di certe cose A volte io Ci sono delle cose Espresse nel dialetto napoletano Che funzionano Di più Che l'italiano Perché quella sensazione lì E quel modo di No non la puoi spiegare Non la puoi esprimere Con l'italiano Cioè io lo penso sempre Con la parola freva Perché la freva È il rosicare Ma dire Ma che rosico No Che freva Perché ha questa intonazione Proprio che dice Io sto Andando in freva Perché a Napoli non si dice Io sto rosicando Cioè la freva È un luogo dove arrivi Non è un sentimento Io sto andando in freva Cioè io sto arrivando Proprio in un luogo Di non ce la faccio più A vedere questa roba E là E questo poi nega Ma Perciò Napoli è talmente Pop Che è proprio Ma infatti è uno dei luoghi Più Diciamo anche musicalmente Più vivi E che ha fornito Più ispirazione In assoluto In Italia Cioè Se c'è una musica Nel mondo Riconosciuta Dall'Italia Come mondiale È la musica napoletana Cioè O sole mio Che la conoscono In tutto il mondo È napoletana Come tanti altri Brani Che sono diventati Famosi e iconici Nel mondo Sono in lingua napoletana La nuova Hollywood Napoli Non vedo l'ora No però È vero che In questo senso Forse tu non potevi Che essere di Napoli Tu che sei così pop Che ami così tanto Trovi Dici Ho pensato questa roba Vedendo Sì secondo me C'è un'associazione Sì sì No io l'ho sempre pensato Cioè non sarei matto Matto Se non fossi stato napoletano Cioè molto di quello Che io sono È Deriva da lì Inevitabilmente Figlio del fatto Che sono di Napoli È tutto lì capito Non solo di Napoli città Di Napoli anche Io mi dico sempre Che sono un'asciura punk Perché io mi sento un'asciura Perché ho poi Cinque zie Tutte donne Figurati Tutte di Lustrini Pellicce Spille È ovvio Che io poi uscivo Ma come vi aspettavate Che dovessi uscire Ma veramente Mi aspettavate allo stadio Voi Cioè Io quando poi capito Eri accerchiato Praticamente Cioè Quando poi faccio Le referenze delle Kardashian E mio padre Mi fa chi E faccio Papà ma che ti aspetti Scusami Guardaci Cioè siamo pop Cioè è tutto questo E perciò io dico che Il pop è la mia religione Perché veramente È la mia religione Cioè io avevo qua Preparato tutti i momenti Di pop Che volevo Ma dal bacio di Madonna Appunto a Mean Girls Alle Kardashian Ma ho detto Abbiamo talmente Volato alto E vi abbiamo talmente Fatto capire Cos'è per noi il pop Che non dico che abbiamo ragione Ma non abbiamo neanche torto Che Cioè Cosa vi dobbiamo dire più Per amare anche voi Questa religione Fatevi un piacere Fate un momento di svago Nella vostra vita intellettuale È un po' triste Di finanza E di tante altre robe Importantissime Come i calcoli matematici E andatevi a vedere Boh Il video di quando Al Come si chiama Al cruciverbone Maria Grazia La signora Maria Grazia Provò a imbrogliare Il sistema televisivo Te lo ricordi con Eternit? Scusami Maria Grazia Io non ti ho mai fatto Questa domanda No vabbè Un momento iconico Della televisione italiana Un momentico E quanti ne abbiamo vissuti Quello Vabbè La clerici con la spuma Mi dispiace ragazzi Per me rimarrà Sempre storia Di questo paese Beh Ciro Per citare Ciro Sandrocchia Che se n'è andata da poco La salutiamo Che è stato un momento Più iconico Vabbè Sandra ha avuto Dei momenti iconici Sandra Milo Ma perché lei era proprio così Cioè E quello Cioè le persone iconiche Sono iconiche In qualsiasi situazione Io penso sempre a malgioio Cioè io Malgioio per me È la mia vita Cioè io potrei svenire Se Mario dovesse incontrare Dal vivo Perché è la rappresentazione Dell'iconicità Fatta persona Cioè lui non si sforza A essere iconico Le sue citazioni Lo è per definizione Sono iconiche Perché sono Anche il modo in cui le dice Certo A me fa ridere tutto E dall'Italia All'America Vabbè All'America C'è di tutto Nell'iconicità Dei momenti pop C'è veramente C'è di tutto Però noi siamo bravi bravi Cioè nella nostra televisione Nella nostra storia C'è stato tanto Beh ma perché abbiamo Un'istrionicità E anche una capacità Di ironia Che è abbastanza Elevata E quindi Il tuo momento pop Culture Quindi non per forza musicale Italiano preferito Ah italiano Sì Quindi come abbiamo detto Eternito Come potrebbe essere Una frase di malgioio Ce l'hai un momento Beh è un momento Secondo me anche un po' drama Perché è dramatic E ci sta Però ce l'ho Appena mi hai detto così La prima cosa Che mi è venuta in mente È stato Quando Raffaella Siccome Qualche Qualcuno della stampa Se l'era presa Con la sua mamma Aveva osato toccare La sua mamma Lei Prima di iniziare La sua trasmissione Si rivolse direttamente Cari signori della stampa Con il mento Che un po' le tremava Perché dice Io Sì anche con questo tono Ci sto Perché io ho scelto Di fare questo lavoro Faccio questo Sono appunto pop E quindi sono disposta A essere attaccata E ho le spalle larghe Per poter ricevere Tutto questo E rimandarlo al mittente Ma c'è una cosa Che non dovete fare Toccare mia madre Perché Quello non lo permetto A nessuno E adesso andiamo avanti Iconico Così Sì Cioè non puoi Io mi ricordo Quando Sì perché ti è rimasta impressa Questa scena Io me lo ricordo Quando accade E quella roba lì Adesso l'ho rivista recentemente In un In un documentario A lei dedicato E ho pensato Cavoli Questa è un'icona Cioè è proprio Lei Vabbè Era iconica Qualunque cosa facesse Cioè io mi ricordo Il momento più iconico Mi ricordo Vabbè tra i tanti Quando intervissò Madre Teresa in Calcutta E ci fu tantissimo scalpore Perché io il suo outfit Me lo ricordo a memoria Aveva una camicia di sifon nera Con queste spalline Ed era un po' trasparente qui Ma era vestita letteralmente A modi Iconicità pop E a fianco c'era Madre Teresa in Calcutta Che spoiler Per chi non la conosca Diciamo Madre Teresa in Calcutta Si va a essere sempre qua Cioè aveva questo look iconico Anche lei Non combaciavano i due look Ma io trovo Meravigliosa Questa immagine Di loro due sedute sul divano Me lo ricordo ancora E tutte queste critiche Ma perché Scusate Ma perché Dove sta scritto Che Raffaella Carra Per intervistare Madre Teresa in Calcutta Si doveva mettere un blazer In una cravatta Cioè La serietà Può avere I lustrini La serietà Esce Con il tacco Giallo Cioè non è per forza Che è un cliché di cliché Quello che vi sto dicendo Però è un po' vero Cioè Prendeteci più sul serio Ma no ma poi soprattutto Se ci pensi L'icona non rinuncia A essere icona Qualunque cosa succeda Raffaella Carra Rispettava La religiosità Del personaggio Carra E Madre Teresa di Calcutta Rispettava La religiosità Del personaggio Madre Teresa di Calcutta La verità è che Ve la volete mettere voi Con la camicia Nero Con i tacchi argento O con la cintura Di Naomi Campbell Di Paola e Chiara Di Dolce Gabbana Metallico Esatto La verità è quella Che non le avevate voi Perché se no Ve le mettavate voi È la freva Esatto È la freva Voi andavate in freva Che non avevate pure voi Questo look iconico E dopo la freva E dopo il pop Ovviamente dobbiamo fare Il pop matto È il gioco Matto Aspettavo Aspettavo Questo momento Sì E devo dire la verità Eccoci Sono qua per questo La tua paletta meravigliosa Matto Scemo Le card sono lì E adesso Come mi piace Sempre rispiegare le regole Ogni settimana Perché fai Io sono in religioso silenzio Allora Noi adesso giochiamo A matto o scemo Come si gioca a matto o scemo Noi votiamo degli argomenti E diamo la nostra opinione Se questi argomenti sono Matto Ovvero una roba Cool Che mi piace Che farei Che trovo iconic Che trovo pop O scemo Una roba che ti dirò Guarda Paola Cioè non è che proprio l'amo Ma Legal disclaimer Non è scemo Chi lo fa Va bene Se io dico che è scemo Chiudere la porta Io intendo che è scemo Fare così con la mano Non è scemo Federico il mio amico Che ha chiuso la porta ieri Mi permetterei mai Mai Ci siamo Ci siamo Ora ovviamente Tu sei l'ospite iconico Inizi tu Con i tuoi card Aspetta che come la zingara Io le mischierò Eh wow La luna nega Quindi se qualcuno Aveva provato a metterli In un ordine giusto Per fare un talk Un talk molto dinamico Paola ha appena deciso Che va tutto mischiato No vero Io prima ero Allora quale esce Prima di Paola Che poi rispondo alla mia Così abbiamo un balance Tra ma No 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 Adesso trovi Perché questo è il pop La mia faccia Mentre tu le mischiavi Che guardavo in camera Con terrore Vogliamo spessare una lancia A favore di Cloris La zingara Quella era iconica Iconica vera Sì sì Vado Vai Ok Ok Occhiali da sole Al chiuso Matto 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 Absolutely Ma da quando in qua Gli occhiali da sole Si mettono quando c'è il sole Ma chi l'ha detta Sta roba A volte faccio colazione Alle sei della mattina Al mio bar C'è ancora buio Pesso sono solo io E gli operai che lavorano E io esco ovviamente Così Ma la sera Io non riesco a uscire Il mio barista oramai lo sa Quindi era segnato È follia È follia No ma perché Cioè tu sei a cena All'improvviso Tutti che ridono E tu sei senza occhiali Cioè no Non mi fa proprio ridere Questa roba ragazzi Cioè credetemi È scemo Non che è scemo Se non le avete Ve li regalo io Allacciarsi le scarpe Totalmente scemo Che momento imbarazzante è Che tutti camminano E fai Scusa scusa Mi allaccio un attimo Le scarpe No Non esiste Io cammino con le scarpe slacciate Fino a che non arrivo Dove devo arrivare Assolutamente Che è scemo Anche camminare Sai cosa è scemo tantissimo Quando dicono Scusa hai i lacci slacciati Allora Inzitutto ti fai i fatti tuoi Perché nel senso Nessuno te l'ha chiesto Non mi fermerò Ad allacciarli Non mi fermerò Perché me lo dici tu Capito Ma un'altra cosa Quando ti dicono E tu sei nudo Praticamente seminudo Ci sono 14 gradi E la gente dice Ma non hai freddo Non è colpa mia Se tu non hai Un gilet di paillette Teresa Ok Non ho freddo Ho una cintura iconica Di dolce gabbana Come si dice a Napoli Si bello poparino Pochi patì E noi patiamo il freddo Patiamo il caldo Tutto amore Tutto Anche perché ricordatevi Che la fashion week Funziona al contrario Shock A gennaio Noi vedremo Quello che esce a settembre E quindi è ovvio Ma perché la moda è questo La moda è iconica E basta con queste stagioni A parte il fatto Che sono scemo Le stagioni Non le ho mai capite Non mi ricordo A chi tocca A me A te Tocca a me Fare la fila al gate Per salire subito in aereo Lascio votare prima te Perché guarda Fare la fila al gate Per salire subito in aereo Sai quelli che sono in fila Per andare in aereo C'è scemo Siamo d'accordo Amore io sono seduta Fino all'ultimo Fino all'ultimo Mi devono chiamare Io devo sentire Personal service announcement Matteo Verini Matteo Verini Quello si lo fai di aspettare A me quello mi fa venire l'ansia Se qualcuno mi chiama Potrei morire A me quello mi fa venire Però no Però quando vedo questi Che appena aprono il gate Si piazzano lì così Ma dove state andate Io mi chiedo sempre Dove state andate Cioè se non hai la priority boarding Ti siedi Se hai la priority boarding È chiaro che vai Sì ok perché vai prima Ma l'aereo Ci aspetta Stai certo che l'aereo Ti aspetta Il posto ce l'hai Hai tu Cioè tu non hai molto A meno che non hai veramente Una partita di lego Da fare lì Ma che stai andando a fare Ma va bello rilassato No e poi capito Magari ti siedi al corridoio Qualcuno arriva Scusami ti alzi Devo sedermi No No ragazzi Non esiste Ovviamente non vuol dire Che è scemo chi lo fa Devi ribadire sempre Lo ribadisco Cos'è perché la prima puntata Mi sono arrivati I miei commenti Perché dici che è scema Insulti No no Allora i miei sono molto diversi Perché i miei sono sempre più Nel mio disagio mentale Saltare Ora io non intendo saltare Nel senso Cosa intendi Cioè per esempio Oddio c'è una corda Salta Io intendo proprio Il concetto di saltare A me devasta Ma perché noi saltiamo Cioè perché io Persona umana A un certo punto Nella mia vita Dove dire Ma sai che c'è di nuovo Io stamattina Faccio proprio un salto Ma perché Cioè non ha senso È scemo Messa in questi termini Detta così Siamo tutta la vita Scemissimo Ok saltare Che non so Sei un atleta Non ci avevo mai pensato A questa cosa Però ora che ci pensi La scemità Perché Io a un certo punto Ah Paola Fai un salto E tu ti elevi No non ha senso Cioè Anche perché non è che poi voli Ma poi per elevarci Non abbiamo bisogno di saltare Ma vabbè Che dirvi Che dir Che cosa devo dirvi di più Siamo troppo giusti ragazzi Troppo iconici Troppo pop Non è colpa nostra Noi non saltiamo Voi saltate Ci hanno fatto così Ci hanno fatto Come mamma mi ha fatto Tocca a me Tocca a te Dormire Dormire con i calzini Matto No Faccio outing Stavamo andando così In sintonia No su questa cosa Il calzino ci ha diviso Perché Però sai cosa Che io Non riesco a prendere sonno Se non li metto No non è ma stai scherzando No giuro Mattissimo No Amore credimi Come disse Maria Antonetta Di Francia No Cioè proprio no Sono delle calzine pazzesche In cashmere Tutto quello che ti pare Però sì No ma i piedi Devono essere nudi Perché devono essere a contatto Con il freddo Perché il freddo Ti fa addormentare Tu sei quella persona Che vuole il letto caldo Quindi No Devi sentire il freddo Devo sentire il freddo fuori Ma nel letto no No io devo tremare Perciò non mi metto i calzini 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 Perché fuori Se tu metti una manina fuori Devi sentire il gelo fuori Non potrei mai dormire in un igloo Non potrei mai dormire Non esserci Però se io ho il piede congelato Ho bisogno di sentire il piedino al caldo No Ragazzi Tu hai bisogno Tu dormi col piede freddo Sì Ma io non hai capito che faccio Io prima di andare a dormire Cioè io esco alle otto E apro la finestra Torno alle due E trovo i polaretti in camera Perché io devo congelare Io devo proprio congelare Io amo Cioè io odio dormire d'estate Lo trovo così scemo Perché fa un caldo C'è da dire che questa cosa Ti manterrà giovane per sempre Dici? Sì beh certo Vai in criogenesi Trovami Trovami col ghiaccio Congelata Eccomi qua con gli occhiali da sole La finestra spalancata Io che gelo Ma il giorno dopo mi trovate Amore il giorno dopo è perfetto Provami Eccoci Eccoci Siamo pronte Il mio ultimo è Ma io perché ragazzi Ho un podcast Ma chi Ma chi è che ha detto Ah ma sì ma sai che c'è di nuovo Ma tu potresti avere un podcast Attraversare la strada Io ce l'ho la mia teoria Allora io l'ho sentita No 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 perché Ti ho percepita No è possibile che io ti dica No Attraversare la strada Però sai che Non avevo mai riflettuto Su questa cosa Dell'attraversare la strada Pensaci un attimo Sei per strada Anzi sei al semaforo E dicono che attraversi E tu attraversi What Che cosa è Che cosa è Che cosa è Che è proprio È un momento Molto imbarazzante Perché innanzitutto È questa sfilata Che io devo attraversare Questi dieci metri Con tutte le macchine Che mi guardano E aspettano che io Sto attraversando Ma la cosa peggiore Secondo me non è neanche quella Quella la posso pure accettare Anche perché se devo andare In un posto Ho proprio Necessariamente bisogno Di farlo Perché altrimenti rimango A via Palizzi Io intendo Quando sono al semaforo Rosso Con tre pedoni Siamo tutti lì Con lo stesso obiettivo Ah tra poco Attraverseremo la strada E ci guardiamo Buongiorno salve Il rosso Sì è rosso U è verde E vai No 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 Scemo Devono inventare qualcosa Che non mi faccia Che io sono Da qui E arrivo tipo Blup E sono arrivato All'altro lato Non voglio fare quel passaggio No Teletrasporto Scemo 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 Tutto scemo Ma ragazzi Comunque alla fine Ci hanno diviso Solo i calzini Ma Non te lo voglio Ci hanno diviso Solo i calzini Perché Cioè nel senso Però me lo prometti Che provi stanotte Mi prometti Che il gruppo Si chiama Paola Chiara E matto E mi unisci Te lo prometto Già fin da subito PCM Trovo top Trovatemi Trovatemi Sul palco In total dolce gabbana Metallico Di Naomi Campbell La prossima volta Coperto di glitter E pailletto Coperto di glitter E pailletto Tutto quello che volete Allora ragazzi Innanzitutto Paola Wow What an honor I love you Sono molto felice Di essere venuta A trovarti E Questa cosa E anche di esserci Conosciuti Per la prima volta Di persona Errato Errato Tranello Io e Paola Già ci eravamo Conosciuti In realtà me l'hai detto Ma Eravamo a una festa Piuttosto alcolica La sua festa Letteralmente La sua festa Due anni fa Tra in Sanremo Non mi ricordo Non so Abbiamo fatto Anche un video insieme Ha anche commentato Il video Due anni fa E io dicevo a tutti Ma io Paola e Chiara Siamo così amici Cioè io per forza Voto L'ora Sanremo Arrivo qua Piacere Paola Io Fatto No però Iconico Andatelo a guardare Quel video Ne faremo forse altri Chi lo sa E come vi dico sempre Innanzitutto Ci siamo divertiti Moltissimo Che Iconico Mi inviterai di nuovo Sì Ne facciamo uno ovunque In giro La prossima L'Eurovision Andiamo in Svezia insieme Ti prego Io sa che io parlo svedese Quindi Lo studio da tre anni Come una pazza Sono l'unica italiana Ma spero su Duolingo Perché io trovo Iconico studiare su Duolingo Le lingue Ho studiato Più lo faccio su Duolingo Il mio team lo sa Perché li ossessiono Durante gli spostamenti Van Ti immagino Con gli occhiali Esatto Esatto Esattamente così Io lo sanno Guarda le facce Sono esauriti tutti Che mi odiano Perché io oramai parlo Questa lingua incomprensibile E ripeto le robe Di Duolingo Oramai sono tutte Perché L'inglese su Duolingo Non è come lo svedese Cioè l'inglese Ha un sacco di opzioni Lo svedese C'ha tre cose in croce Sì c'è quello Quindi continuano Siccome non è una lingua Molto cercata Per essere imparata Ci sono molte meno opzioni Quindi io so oramai Tutte le risposte a memoria Vabbè ragazzi Allora io ve lo dico La prossima puntata Di Matteo mi casciamo con Paola È in svedese Sì sì Perché è di un iconico Assurdo Sì sì È il suo E io per chiudere la puntata Mi rimetto gli occhiali Perché non ho nessuna intenzione Sembra uno scemo Come vi dico sempre Se la puntata vi è piaciuta Ditelo ai vostri amici Ai vostri fidanzati Ai vostri amici superficiali Ai vostri amici pop Se la puntata non vi è piaciuta Fatevi i cazzi vostri Non interessa a nessuno Nessuno ve l'ha chiesto Fatevi i cazzi vostri E anche altra cosa Che vi dico sempre Se incontrate me o Paola Non dite Quanto è stata bella Questa puntata Se non l'avete vista Perché vi interroghiamo Vi facciamo le domande E vi sgamiamo Perché noi siamo matti Ma non siamo mica Scemi Ciao ragazzi Vi amo alla prossima Buon fine settimana